Musica Alberta Orlandi della delegazione AIS di Chieti a Ortona al vecchio teatro per parlare di miele. Perché? Il miele è un alimento che forse non tutti conoscono in maniera approfondita e noi abbiamo pensato all'interno dei nostri eventi, di quelli che organizziamo mensilmente, di dedicargli una serata. Abbiamo invitato una docente, una signora, una dottoressa biologa che fa i corsi addirittura agli apicultori per far capire al consumatore che il miele, che cos'è il miele poi alla fine. Perché forse non tutti sanno che il miele proviene da tante nazioni oltre che dall'Italia. Ci sono dei miscugli di mieli che provengono da fuori Italia con quelli prodotti in Italia. E non sempre le regole che si osservano da noi vengono osservate anche negli altri paesi. Per cui dovremmo imparare anche a leggere in questo modo le retroetichette soprattutto. Il miele è comunque un alimento che offre un apporto sia calorico ma anche proteico molto importante per il nostro corpo e va consumato essenzialmente a temperatura ambiente, freddo. Da buona sommelier come si accompagna il miele a tavola? Noi a seguire questo corso abbiamo preparato una cena con diversi piatti in abbinamento al miele e su ognuno di questi piatti abbiamo abbinato i vini gentilmente offerti dalla cantina Colle Moro di Quastameroli. Abbiamo degustato insieme con dei formaggi e miele, passerina spumantizzata, succedere il riso con il cagoriano e miele, nocciole triturate e un buon pecorino che questa cantina produce in maniera un po' particolare perché si avvale di due vendemmie, una primaria per fissare l'acidità e una secondaria a frutto un po' più maturo. Questo infatti nel bicchiere è risultato molto visibile sia dal colore ma anche in bocca. Successivamente la carne di maiale sempre con il miele abbinata a un montepulciano superiore e i dulcis in fundo, una torta all'arancia con miele all'arancio e moscato spumante. Leonora Carusi, ristorante Vecchio Teatro di Ortona, una manifestazione dedicata al miele. Come è andata? Tutto bene, c'è stato un buon riscontro, grande interesse da parte di tutti. È stato organizzato tramite l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, ovviamente con il nostro aiuto e collaborazione. Ha tenuto oggi pomeriggio un corso con una dottoressa che ha spiegato proprietà, qualità e usi e noi questa sera ci siamo adoperati a preparare una cena con vari abbinamenti, con vari mieli, tutti abruzzesi rigorosamente e biologici. Che piatti avete preparato? Allora abbiamo presentato un formaggio di mucca però stagionato nel montepulciano e una specie di robiola sempre locale di pecora abbinati con la miele di girasole, poi una scamorza appassita con miele di acacia e un risotto con nocciole e gregoriano, formaggio tipico abruzzese del signor Gregorio con miele di cumino. Dopodiché una braccioletta di maiale con salsa di castagne con miele di castagne. E adesso si concluderà con una torta di ricotta con noci e miele di noci e arancia. Marino è lo chef del ristorante al Vecchio Teatro di Ortona. Come si abbina il miele ai vari piatti? Ogni miele ha il suo sapore, la sua densità. In base a ogni formaggio, un formaggio delicato, un miele che contrasti. Poi oggi noi abbiamo preparato un risotto con formaggio gregoriano e noci e abbiamo abbinato un miele molto dolce, giusta densità per quel riso, molto delicato. Poi abbiamo fatto vari tipi di formaggi con altri tipi di miele. Poi abbiamo fatto vari tipi di formaggio gregoriano e noci e abbiamo abbinato un risotto.